Un cordiale saluto a tutti le persone che ci stanno seguendo, benvenuti a questa nostra terza tappa di approfondimento del Vangelo del giorno. Oggi è mercoledì 7 settembre e ascoltiamo il Vangelo di oggi dopo aver invocato su di noi lo Spirito Santo. Dio della luce manda su di noi il tuo Spirito Santo affinché attraverso l'ascolto delle scritture riceviamo la tua parola. Attraverso la meditazione cresca in noi la conoscenza di te. Attraverso la preghiera contempliamo il volto amato di Gesù Cristo tuo figlio che vive e regna con te lo Spirito Santo ora e nei secoli dei secoli. Amen. L'Evangelo di oggi è sempre dell'Evangelista Luca capitolo 6 versetti da 20 a 26. L'Evangelio si pone in continuità con i brani che abbiamo ascoltato il lunedì e martedì. Ecco, una continuità proprio effettiva, non vengono saltati ecco versetti o brani intermedi. Ascoltiamo oggi la versione di Luca delle Beatitudini. Come potrete subito cogliere, le Beatitudini di Luca sono leggermente diverse da quelle di Matteo, sia per il numero, sono cinque anziché otto, e anche per i termini un po' messi in campo si parla dei poveri, non dei poveri in spirito, ma magari su questo torniamo tra poco. Un'altra particolarità, le Beatitudini di Luca appunto parlano dei beati, vengono messi in campo appunto i beati, comunque quanti sono benedetti agli occhi di Dio, ma ci sono anche le categorie che invece vengono colpite da guai, guai a voi ascolteremo tra poco. Questo modo di fare riecheggia quello che era il modo di fare anche dei profeti, quindi Gesù qui si ricollega a una tradizione dei profeti dell'Antico Testamento. Se diamo uno sguardo, nel profeta Isaia o Geremia trovate da un lato delle benedizioni o comunque delle parole bene augurali nei confronti molto spesso del popolo ebraico, ma troviamo anche delle parole molto dure contro altre categorie, molto spesso i popoli che si contrappongono al popolo ebraico. Sono delle vere e proprie maledizioni che i profeti invocano contro alcune categorie. Qui Gesù in qualche modo si rifà a questa tradizione, non troviamo maledizioni, però avvertimenti molto severi, molto duri che Gesù rivolge ad alcune categorie, un po' come i profeti dell'Antico Testamento. In realtà potremmo dire che anche questi guai non sono funzionali alla dannazione delle persone, sono guai che invitano a cambiare vita, sono degli appelli alla conversione. Per certi versi, forse anche le maledizioni dell'Antico Testamento avevano un po' questo tipo di obiettivo, però qui è molto chiaro, Gesù non scaglia questi guai per distruggere o per condannare, maledire le persone che ha di fronte a sé, però lancia questi strali, questi avvertimenti, in vista della conversione degli interlocutori ai quali appunto si rivolge. Ma veniamo allora al Vangelo senza ulteriori introduzioni. In quel tempo Gesù, alzati gli occhi verso i Suoi discepoli, diceva, Beati voi, poveri, perché vostro è il Regno di Dio. Beati voi che ora avete fame, perché sarete saziati. Beati voi che ora piangete, perché riderete. Beati voi quando gli uomini vi odieranno e quando vi metteranno al bando e vi insulteranno e disprezzeranno il vostro nome come infame a causa del figlio dell'uomo. Rallegratevi in quel giorno ed esultate, perché ecco la vostra ricompensa è grande nel cielo. Allo stesso modo, infatti, agivano i loro padri con i profeti. Ma guai a voi, ricchi, perché avete già ricevuto la vostra consolazione. Guai a voi che ora siete sazi, perché avrete fame. Guai a voi che ora ridete, perché sarete nel dolore e piangerete. Guai quando tutti gli uomini diranno bene di voi. Allo stesso modo, infatti, agivano i loro padri con i falsi profeti. Ecco, come potremmo dire, il brano si ricollega all'Antico Testamento sia per questa modalità espressiva, beati, guai, le benedizioni, le maledizioni che troviamo anche nell'Antico Testamento, ma anche per degli altri riferimenti proprio espliciti. Si parla dei profeti, dei padri, anche, come a dire, la storia del popolo ebraico è caratterizzata da generazioni che hanno ucciso profeti, quelli buoni, quelli che portavano la parola di Dio, e hanno invece accolto i falsi profeti, ne hanno fatto degli uomini potenti e degli uomini ricchi. Ecco, così avete fatto nel passato e così fate anche oggi. E poi c'è quell'altra espressione, quella legata al figlio dell'uomo, anche questa è un'espressione antico-testamentaria, la troviamo nel libro del profeta Daniele, è un'espressione attraverso la quale viene designato il Messia al quale, così si legge nel libro del profeta Daniele, Dio alla fine dei tempi consegnerà tutto il potere, tutta la regalità della storia e del mondo, vinte una volta per tutte le forze del male. Quindi questo figlio dell'uomo è una categoria antico-testamentaria che qui assume un ruolo molto importante. Gesù utilizza spesso nei Vangeli, nella sua predicazione, questa espressione in realtà per parlare di sé, è una autodesignazione, parla di se stesso Gesù utilizzando questa espressione, questa cifra, no? Figlio dell'uomo. E diventa anche una espressione interessante perché dice appunto l'identità di Gesù, figlio dell'uomo, su questo potremmo dire tante cose, vuole dire figlio dell'uomo, come mai questo tipo di espressione, no? Utilizzata nel libro del profeta Daniele. Nel libro del profeta Daniele le potenze ostili a Dio sono caratterizzate da forme animali, sono animali, mostri che si contrappongono all'opera di Dio. Queste forme mostruose le troviamo anche nel libro dell'Apocalisse, ad esempio. A differenza di queste, l'inviato di Dio non appartiene a queste forme mostruose, ma al volto di un uomo, al figlio dell'uomo. Quindi a dire che il Messia è la pienezza, no? Dell'umanità, l'umanità portata al suo compimento che si contrappone alle forze mostruose del male. Il bene rivela fin in fondo all'uomo la propria identità, il male invece lo deturpa, lo rende mostruoso. Questo è un piccolo pensiero, ma non mi sembra così di poco valore, di poca importanza. A volte il male davvero abbruttisce, no? L'essere umano lo deteriora, lo sfigura. Ecco, invece l'azione divina, il realizzare il bene, permette all'uomo di, così, far risplendere fino in fondo quale sia la propria identità, il proprio volto. Ecco, il Messia, figlio dell'uomo, viene inviato sulla Terra, a lui vengono dati tutti i poteri, permette all'uomo di diventare veramente se stesso. Una considerazione, così, un po' di passaggio, ma alla luce di questa categoria molto ricca di figlio dell'uomo che compare nel libro di Daniele e che Gesù utilizza per parlare di sé. In questo brano è molto importante questa espressione, per questi aspetti che ho cercato di dire, ma anche perché la beatitudine o la maledizione si gioca in relazione alla relazione che l'uomo istituisce con questo figlio dell'uomo. Beati voi quando vi odieranno, vi insulteranno, vi disprezzeranno a causa del figlio dell'uomo, come a dire, per tutto quello che avrete fatto a favore, a beneficio del figlio dell'uomo. Quindi il figlio dell'uomo diventa un po' una pietra di scandalo, una pietra di inciampo, un criterio di giudizio attraverso il quale un po' passare dalla categoria dei beati alla categoria di coloro ai quali rivolge, Gesù rivolge i guai. Un'altra particolarità di questo brano è quel beati voi poveri, ricordate, nelle beatitudini di Matteo invece si parla di beati, i poveri in spirito. Qui Gesù è molto, scusate, sì Gesù nel Vangelo secondo Luca è molto più esplicito, si ha a che fare con la povertà concreta. Nel Vangelo di Luca ritorna spesso questo tipo di attenzione. Gesù nel Vangelo di Luca manifesta un'attenzione molto viva nei confronti degli ultimi, non semplicemente intesi come gli umili o quelli che hanno un atteggiamento interiore caratterizzato dalla docilità. No, sono proprio i poveri quelli che da un punto di vista economico hanno pochi mezzi, pochissimi mezzi. Questi sono tra le categorie benedette, particolarmente amate da Dio e Gesù lo ribadisce appunto anche in questo brano che abbiamo ascoltato. Questo deve un po' farci pensare a differenza dei ricchi contro i quali più volte nel Vangelo secondo Luca Gesù interviene in modo molto severo, in modo molto duro. Alcuni sociologi della religione suggeriscono che questi interventi che troviamo in particolare nel Vangelo secondo Luca ci fanno intuire come al tempo di Gesù le tensioni tra poveri e ricchi, tra una società, tra le categorie, alcune categorie della società di allora assegnate da una profonda ricchezza si contrapponessero a una realtà di povertà molto diffusa e dunque anche le parole di Gesù riecheggiano a questa tensione sociale molto viva. Da questo punto di vista possiamo dire che non è cambiato molto nella storia dell'umanità perché queste tensioni tra ricchi e poveri in qualche modo riemergono anche ai giorni nostri all'interno della nostra società e più complessivamente all'interno di quella che è l'economia mondiale. Quindi è un brando del Vangelo direi assolutamente attuale che ci invita a una profonda riflessione e anche a delle scelte concrete di trasformazione e cambiamento del nostro stile, del nostro modo di vivere. Mi fermo qui su queste considerazioni un po' rapsodiche sul Vangelo di oggi e concludiamo con la preghiera e la benedizione. O Padre che ci hai liberati dal peccato e ci hai donato la dignità di figli adottivi, guarda con benevolenza la tua famiglia perché a tutti i credenti in Cristo sia data la vera libertà e l'eredità eterna e su tutti la benedizione. Il Signore sia sopra di te per proteggerti, davanti a te per guidarti, dietro di te per custodirti, dentro di te per benedirti, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Un caro saluto ancora da Don Alessio Magoga. A domani. Un caro saluto ancora da Don Alessio Magograти